Circo di cantare, sempre faccio tutto il concerto, anche facendo l'accompagnamento, a me lo canto, io non sto pensando che nota è, però l'ho fatto tanto di pensare, non ci arrivo a queste cose, poi mi devo fare il soletto su questa cosa, cerco di fare le cose a regno, non viene niente, allora mi dicevo sopra la nonna mi piace. Allora, 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 allora. Allora, allora, e con chi? Circo di cantare, sempre faccio tutto il concerto, anche facendo l'accompagnamento, a me lo canto, io non sto pensando che nota è, però l'ho fatto tanto di pensare, non ci arrivo a queste cose, poi mi devo fare il soletto su questa cosa, cerco di fare le cose a regno, non viene niente, la prima mi dicevo sopra la nonna mi piace. Allora, allora, ad esempio,